Allora, one, passive relation or neutral, two, service relation. They're talking in Italian, no in Italian. Uno, allora, primo, la relazione passiva o neutra, due, la relazione di servizio, tre, la relazione di amicizia, quattro, la relazione di genitore, cinque, la relazione amorosa. Tutte queste cinque relazioni sono menzionate nel decimo canto. E quali sono i passatempi di queste relazioni? Leggendo questi tipi di passatempi possiamo allora capire, scegliere qual è il nostro tipo di attitudine, di relazione. Buona. Allora, Arjuna è unito al Signore da una relazione di amicizia. Naturalmente è un'amicizia del tutto diversa da quella che conosciamo nel mondo materiale, soprattutto perché l'amicizia spirituale non è alla portata di tutti. Ogni essere ha per natura una relazione col Signore, ma questa relazione individuale, ora perduta, deve essere ristabilita e ciò è possibile solo se si raggiunge la perfezione del servizio devozionale. Qual è la relazione di Arjuna? Era spirituale. Cos'è spirituale e fisico? Spirituale, come vi mostro da Gesù, la relazione con suo padre. Era spirituale o materiale? Era spirituale o materiale? Una domanda. Spirituale. Perché spirituale? Perché spirituale? Perché lui realizzò la sua identità spirituale di essere figlio. e il creatore è mio padre. Ed il creatore come padre. Questo diventa spirituale. Quindi questo diventa spirituale. E qui Arjuna ha scritto che lui realizzò la sua identità di amico con Krishna. E quindi vedeva Krishna come suo amico, ha creato questo tipo di relazione. E quindi questo diventa spirituale. Questo è incondizionato. Questo è incondizionato. Incondizionato cosa? Mentre quando noi abbiamo delle relazioni con il corpo materiale, allora queste hanno incondizionamento. Allora se resta sempre condizionato, non diventa incondizionato, allora la relazione finirà. Questa è la differenza tra relazione condizionata e incondizionata. La relazione condizionata, perché del materiale, cambia. La relazione condizionata, cambia dovuta alla materia. Mentre la relazione spirituale, che è incondizionata, non cambia, ma cresce. Ora vedete. Tutti gli esseri sono legati al Dio da una relazione eterna, ma sotto l'influsso della materia dimenticano completamente il Signore e il legame che li unisce a Lui. Il risveglio di questa relazione divina, Svarupa, è la sua. Svarupa. Ora questa Svarupa è una formazione spirituale in incondizionale. La formazione mio figlio è la mia Svarupa. La mia Svarupa è la mia identità, è la forma della mia anima, come amico o come amante, che è quindi incondizionata. Come Sanatani, lei è molto fissa nella sua forma di madre e non la puoi deviare, non la puoi cambiare. Il risveglio di questa relazione divina, Svarupa, è detto Svarupa Siddhi. Quando non cambia, è Siddhi. Quando non cambia, è Siddhi. Quindi non cambia, non è una forma, una Svarupa che cambia, è Siddhi, è perfetta. La Svarupa di Arjuna non cambia mai, Lui è amico, è realizzato nella relazione di amico e non cambia mai. Gesù Sarupa non cambia. Lui è il suo figlio è il suo figlio. Lui è confusato per dire, Dio, questo, è confusione. Ma nel momento di crucifizionare il suo figlio, esiste nella forma di un suo figlio. E' la bellezza di Svarupa Siddhi. Se lo cambia, Dio è Siddhi. Come la forma di Gesù, che era quella di figlio, ed era perfetta in quello. Se cambiava, significa che non era perfetto. Understand? If change, not Siddhi. If not changing, is Sarupa Siddhi. Se cambia, non è perfetto. Mentre se non cambia, allora è la Svarupa Siddhi. La relazione sarà in modo permanente, un punto molto importante. Si? Si, lo cap idee? No. Raghabh... Questo ruolo comincia con il ragabhakti... Con questo. Vete capire questa connessione? Quindi c'è una connessione tra l'introduzione della Bhagavad-Ghita e del Ragavad-Machandrika. Tutti due iniziano con la stessa descrizione. In ordine di ottenere il bath delle gopi, nella relazione di amicizia e nella relazione materna, lo possiamo sperimentare anche attraverso il nostro corpo materiale, Sadakadeha, e da quello poi possiamo anche andare nella nostra forma spirituale. La relazione di amicizia e materna la possiamo anche sperimentare in questo mondo, come genitore o come amico. Poi da lì uno può andare verso quella spirituale, cioè comprendere qual è il tipo di attitudine. Perché anche esternamente uno può avere una natura materna nel mondo materiale. Però dobbiamo farlo in modo incondizionato anche all'esterno di noi stessi. Dobbiamo farlo senza ragione, senza aspettarci niente in cambio. In questo modo può incrementarsi l'amore materno e l'amore dell'amicizia. Mentre l'amore coniugale non possiamo sperimentarlo nel mondo materiale, possiamo cominciarlo solamente dalla nostra svarupa. Quindi questa raganuga e rupanuga spiegano dell'amore coniugale spirituale. Perché questo corpo materiale ha una concezione maschile. e la natura maschile è quella di godere. Quindi questo non se ne andrà mai questa tendenza a godere. mentre la natura femminile è quella di essere goduta con piaciuta. E questo però non può avvenire senza aver realizzato la nostra forma spirituale, la nostra identità spirituale. Anche nel mondo materiale sia i corpi maschili che quelli femminili hanno una concezione, una tendenza maschile, quindi quella di godere. Quindi per questa identificazione non possiamo entrare nella rupanuga. Non possiamo comprendere come nell'amicizia e nell'amore materno dall'esterno per poi andare verso l'interno. Dobbiamo partire solamente dall'interno. In order to attain the bhav of the gopis, one will especially hear from a Raga Nuga Bhakta, the portions of the tenth kanto. In order to attend the bhav of the gopis, one will hear the descriptions of the tenth kanto of the Bhagavatam. Which discuss their relationships with Krishna, namely Gopi Gita. Daunrasika Bhakta. Daunrasika Bhakta. That's a little bit. That's a little bit. That's a little bit. Which discuss their relationships with Krishna, namely Gopi Gita. La Gopi Gita. Yugala Gita. Yuga La Gita. Brahmara Gita. Brahmara Gita. Pranayagita and Venugita. Sì, capisci? Questo per capire, per noi, Gopman, questo mood. Altre mood puoi prendere, ma soprattutto per questo mood solo cinque soggetti sono in me. Questi tipi di relazioni possiamo trovarli in altre descrizioni. Chiaro? Chiaro? Uno che ha sufficiente samskara e impressioni nel cuore per aver avuto delle associazioni con persone sante nelle vite passate sarà abile di poter ottenere questa avidità spirituale e raggiungere il Gopi Bhav leggendogli Shastra. Perché Shastra? Perché leggere Shastra? Per sviluppare i sentimenti, il Bhav. Cos'è la vita spirituale? per incrementare i nostri sentimenti. Vedete? Che cos'è questo? Metallo. Materiale. Non ha sentimenti. Questa sedia non ha sentimenti. Perché? Perché è materiale. Questo muro è materiale, non ha sentimenti. quindi se vogliamo vivere in una coscienza materiale allora non sono richiesti dei sentimenti, non ci sono sentimenti. e se vogliamo vivere in una coscienza materiale allora dobbiamo vivere in una coscienza spirituale. La vita spirituale significa vivere in una coscienza. ma non dovrà convincere se stesso in un modo logico dagli Shastra. Per una tale persona questo libro è come una luce lunare per scoprire il percorso della Raganuga Bhakti. Questo libro è come una luce lunare per scoprire il percorso della Raganuga Bhakti. è scritto che ci sono due tipi di Shrad, di fede. Vaidi e Raganuga. Vaidi e Raganuga. Due tipi di fede. Due tipi di fede. Una è Vaidi e una è Raga. che quindi corrispondono a due tipi differenti di Bhakti. Namedi Vaidi Bhakti. Chiamati Vaidi Bhakti. E Raganuga Bhakti. Chiamati Vaidi Bhakti. E Raganuga Bhakti. Se io sono un guru che sono qualificato nella Vaidi Bhakti allora insegnerò quel tipo di sentimento. Dipende qual è la mia qualificazione e la mia realizzazione. E la mia qualificazione. E la mia qualificazione e la mia realizzazione. Sentimento. I understand. Go on. Vaidi Bhakti is impelled by fear. La Vaidi Bhakti è predominata dalla paura. It is induced by the injunctions of Shastra ed è regolata dalle injunzioni degli Shastra che insegnano ad ognuno di svolgere la Bhakti per Krishna come se fosse l'unico rimedio per proteggere se stessi nel non andare all'inferno. Again, repeat that. Vaidi Bhakti is impelled by fear. La Vaidi Bhakti è predominata dalla paura. It is induced by the injunctions of Shastra that instruct everyone ed è regolata dalle regole degli Shastra che insegnano ad ogni persona to perform Bhakti to Krishna as the only means to protect one from going to hell. Di svolgere la Bhakti per Krishna solamente con lo scopo di salvarsi dall'inferno. Yes? Why they burn out because of that? They don't like after ten years practicing. Ah, ma perché dei sadaka, dei devoti cadono oppure non hanno gusto perché dopo anche dieci anni di pratica svolgono la Bhakti solamente con questo scopo? perché diventano stanchi di questo. Hanno paura. Non provano gusto. Non provano dei sentimenti. Non provano dei sentimenti. Sono come delle attività materiali. uno può essere ingaggiato nella Bhakti per avere della paura, per paura. o può essere convinto dalle istruzioni degli Shastra che sono basate sulla logica che sono basati, insegnamenti che sono basati sulla logica. Quindi ascoltando molte istruzioni, in questo modo molte persone cominciano a praticare la Bhakti. E' facile anche. E' di aiuto anche perché in questo modo possiamo venire fuori dall'ignoranza. Abbiamo un buono stato d'animo perché viviamo in virtù. provoca anche un gusto. Però fino ad un certo punto, dopo quel punto diventerà arido. Perché dopo la virtù, solamente con questa pratica non possiamo entrare in pura virtù. Saremmo bloccati, no? Saremmo bloccati, no? Mentre la Bhakti. Mentre la Bhakti che è predominata da un'avidità di seguire il sentimento che hanno le Gopi è chiamata Raganuga Bhakti. Questa abidità spirituale viene manifestata ascoltando i passatempi che sono descritti nel Bhagavatam, nel decimo canto del Bhagavatam. e soprattutto essendo in associazione con il Raganuga Bhakti. That's it. Yeah! Yeah! This is all Guru Kripa. This without mercy of Guru is not coming in life. This is mercy of Prabhupada. That he opened my eyes to understand this is the mercy of Gurudev, that he is showing this to Guru. That he is showing this to Guru. That he is showing this to Guru. No, Guru Kripa. Only Guru Kripa. Do you want to ask something better now? Yes, now, now, now. There is a Guru that is more in Raganuga Bhakti and he gets one new disciple. This disciple, very young, can start already practicing Raganuga Bhakti to start from Varidhi Bhakti. Actually, what is the meaning of Raga? Cos'è il significato di Raga? Raga. 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 Raga means attachment. Raga significa attaccamento. And greed. Ed abidità. Is easy to attach only for Krishna. And only greed for Krishna. If I am qualified that I stop my other greed and I become attached only for Krishna. qual è la mia qualificazione? E' quella mia qualificazione. Se io sono 10 anni fa, se io ho la qualifica nel lasciare tutti i tipi di attaccamenti, attaccarmi solo a Krishna, lasciare tutti i tipi di desideri, di avere avidità solamente per Krishna, allora quella sarà la mia qualifica, la può avere anche un bambino che ha 10 anni. Attaccamento e grigio per me. Attaccamento e avidità per Krishna. Molti attaccamenti outside materialismi. Non è grigio per materialismi. It becomes one. It's a sukriti of my past life is happening in me. Noi abbiamo molti attaccamenti e molta avidità per le cose materiali. Se tutti questi diventano uno solamente per Krishna, significa che sono delle sukriti delle mie attività passate. e quindi è nato in una famiglia a Vaisnava. E' una grande misericordia. Come tuo figlio, che è nato nella tua famiglia. Come tuo figlio, che è nato nella tua famiglia. è fortunato perché ha fatto delle sukriti e quindi è nato in una famiglia a Vaisnava. No, il suo figlio è un figlio, due generazioni a Vaisnava in Italia. Il suo figlio è un figlio, il suo figlio è un figlio, il suo figlio è un figlio. di cui è nato in una famiglia a Vaisnava. Si è nato in una famiglia a Vaisnava, si è nato in una famiglia a Vaisnava. Quindi questo è un figlio di cui nasce in una famiglia a Vaisnava. Quindi se arriva della misericordia, allora arriverà l'avidità spirituale, allora sarà molto facile poter entrare nella Raganuga Bhakti. Quindi ho dato l'esempio di Sanatani che le sue parole possono dare molta ispirazione e distruzione a riguardo del Vatsalya Ras. Perché è una realizzazione, cosa puoi fare? Perché è una realizzazione. Vedete, io non vedo mai che lei canta. Non ho bisogno di cantare perché è nel Vatsalya Ras, quest'amore materno continuo quindi non ha bisogno di cantare. Nuttire e il suo bhagano, nutire gli altri. La mamma è la mamma. Quindi questo Sokrati, cosa fa? Io ho detto che è alibata da noi. Questo è l'Asthai Bhavo. Lei è in Asthai Bhavo. Mentre lei è fissa in un sentimento. Tattastha. Tattastha. We are Tattastha. We talk from different different bhavo, no? We are Tattastha. We are like a Tattastha Jiva. In generale noi siamo in Tattastha. Parliamo di molti tipi diversi di relazioni, di sentimenti. Mentre lei è in Asthai Bhavo, in un sentimento unico. Quindi quella è la cosa più elevata. Chi è più elevato? Noi, noi, noi. Io ho detto. What is the scripture say? Asthai Bhavo è più elevato da Tattastha. È più elevato da Tattastha. Sì. Sì. Se siamo in Asthai Bhavo, allora non parleremo mai. Understand? E quando è in Asthai, si può solo raccontare ciò che sai. L'altra cosa non è il mio negozio. Sì. che si può essere più elevato da Tattastha. E questo è il raso più elevato. Understand? Ahahahahah. Bene. 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 De�� c'è questa linea nel glu vanda all'inizio. C'è questa linea nel glu vanda all'inizio. All'inizio. Ce'è questa linea nel glu vanda all'inizio Zava. All'inizio. What is the meaning? If the Prema-bhakti will come in your life, all ignorance will go. Son. All avidyā will go. All uno manaj, ah, mmm doubts will call. Si arriverà la prema-bhakti nella nostra vita allora tutti i dubbi, e tutte le cattive abitudini se ne andranno. I Vedas dicono che noi aspettiamo solamente il momento in cui la Prima Bhakti arriverà all'interno della nostra vita. Quindi è la prima linea di questo canto del Guru Vandana, all'inizio cantiamo. Cacchudan deloje janme janme prabhusayi, mi dai degli occhi, gli occhi per vedere, gli occhi spirituali. Prima ero cieco, non potevo vedere, mentre tu mi hai donato degli occhi divini, adesso posso vedere. E questa è la misericordia del Guru. Se tu che mostri la via portando questo tipo di argomenti, mi dai la luce nella mia vita. C'è solo te nella mia vita e te ispiri addirittura agli altri per potermi aiutare a sviluppare questo sentimento. Quindi dobbiamo avere questa attitudine nella vita spirituale. a sua vita, nel centro di te sei siterrò. A sua vita si appellisce in un'una altra modo di insegnazione. Altrimenti divisi anteprima, altrimenti divisi unbrito. Altrimenti te sei siterrò, altrimenti te sei siterrò dentro di me, altrimenti te говорavi da l'navra. ma io conosco che tu sei lì, tu stai facendo per me.